il niente è un concetto filosofico non una realtà fisica né tantomeno qualcosa di sperimentabile deve intendersi come assenza di essere cioè non esistenza ma questo non vale per tutti tutti gli uomini alla domanda che cosa hai hanno ricevuto almeno una volta come risposta niente donne è ora di riscrivere il concetto niente così anche gli uomini potranno provare ad usarlo questa è una campagna di sensibilizzazione alla spiegazione della parola niente in favore delle categorie non protette dal sostantivo per di più maschile